Il consigliere di fiducia dovrà diventare un punto di riferimento per i lavoratori che si sentono comunque vessati di un atteggiamento illecito da parte di altri lavoratori e quindi di conseguenza essere un loro punto di riferimento fiduciario che possa aiutarli a risolvere il loro problema attraverso poi delle procedure e stabilità della legge. Ritengo che queste norme possono aiutare sempre di più ad avere un ambiente ed un clima idoneo affinché i lavoratori possano prestare il proprio servizio. Quindi il problema c'è sempre stato, secondo me non è che adesso si è aggravato e quindi sono state emesse delle leggi ad hoc. Il problema c'è sempre stato e oggi invece c'è la sensibilità giusta per risolvere questo tipo di problema.